Il 26 aprile in collaborazione con la Camera di Commercio di Brescia e Unicredit il Teatro Grande aprirà le porte ad uno spettacolo di eccezionale rilevanza. Le ore 20 infatti il teatro si riempirà delle notte del concerto della Chicago Symphony Orchestra diretta dal maestro Riccardo Muti. Si tratta di un evento unico ed irripetibile per il Festival Pianistico Internazionale e per Brescia. Un evento importantissimo che dimostra che la scelta che le amministrazioni comunali di Brescia avevano preso di fare una fondazione pubblico e privato e affidare la gestione del teatro a un sovraintendente competente si è dimostrato assolutamente giusta e ha permesso nel giro veramente di poco tempo, poco più di un anno di rilanciare il teatro grande in maniera tale che fosse anche sede di un grandissimo concerto come sarà quello del maestro Muti. Rota, Strauss e Sostakovic sono gli autori scelti per il concerto che aprirà con l'esecuzione della suite da Il Gatto Pardo di Nino Rota. Il concerto del 26 aprile costituisce una sontuosa anteprima di un 49esimo festival che presenta un cartellone ricco di eventi e di interpreti importanti. Ormai Brescia sta diventando poco a poco e anche con eventi come questi, una città d'arte, una città di turismo culturale e la fortuna che abbiamo di trovare sul territorio le associazioni che ci aiutano in questo rendono onore veramente alla città.